Bentornati su MyFootballGersey. Oggi vediamo la prima maglia della Spagna per i mondiali in Qatar che si stanno disputando in versione fan, la versione più comoda pensata per i tifosi. La maglia Home Adidas Spagna 2022 presenta una base rossa utilizzando il colore Team Power Red. Come colore secondario viene usato il Team Navi Blue che viene utilizzato per le tre stripes sulle spalle e per il bordo del colletto. Sul petto a sinistra si trova il nuovo logo della Nazionale Spagnola per la prima volta in assoluto su una maglia maschile della Spagna. Gli inserti in mesh sotto le braccia e la tecnologia anti umidità AeroReady assicurano il massimo comfort ai tifosi. Questo prodotto contiene il cento per cento di materiali riciclati ed è solo uno delle soluzioni di Adidas per la lotta contro l'inquinamento causato dai rifiuti plastici. La maglia rispecchia la tradizione spagnola, le cosiddette furie rosse non potevano che avere una maglia fatta in questa in questa maniera. Nella mia classifica questa prende 5 stelle, una maglia bella fatta bene con tutte le rifiniture giuste, con una corretta vestibilità, con le cuciture che non danno fastidio. Il costo lo vedete qui sopra e peraltro ricordatevi include anche le spese di spedizione quindi è molto vantaggioso. In descrizione trovate tutti i riferimenti per ordinare la maglia. Ora prima di lasciarvi alla parte finale nella quale vedrete la vestibilità. Io spero che possiate regalarci un like e iscrivervi al canale. Per oggi è tutto, ci vediamo alla prossima! Io sono alto 1,75 m e peso 70 kg circa. Quella che vedete è una taglia media della versione fan.